Ciao a tutti, benvenuti al tutorial sulle stagioni, la Seestaciones in italiano. Vediamo, una delle mie stagioni preferite è l'estate. L'estate, perché l'estate? Perché posso andare in vacanza! E quando è estate in Italia? L'estate in Italia inizia nei mesi di giugno, luglio, luglio e agosto. Se llama Estate e si scrive così. L'estate in italiano è una stagione femminile. Quiere decir, el verano. In castellano è masculina, perché requiere un articolo masculino, el. In italiano diciamo l'estate, l'estate, perché è una parola che comincia con vocale. Però è femminile. Quindi, se abbiamo un verano molto accalorato, che fa molto calore, in italiano dobbiamo dire l'estate calda. Un'altra stagione che segue all'estate è l'autunno e l'otogno. L'autunno si chiede a masculino e si scrive con l'apostrofo, perché è in piesa con vocale. Segue l'inverno. Quando è inverno in Italia? Inverno è quando inizia a fare molto, molto freddo. Quindi possiamo dire fine ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio. E a marzo? A marzo ritorna la primavera. La primavera può coprire i mesi di marzo, aprile e maggio. Quindi quando inizia a fare caldo in Italia abbiamo la primavera. Quando inizia a fare freddo in Italia abbiamo l'autunno. I mesi dell'autunno sono settembre, ottobre. Con questo è tutto. Felice anno e felice estate, ma buone vacanze a tutti. Ciao! 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 Ciao!